Con 29 nuovi casi accertati nelle ultime ore, sale a 2274 il totale delle persone affette da Covid-19 in Abruzzo. 8 i decessi più recenti, il bilancio delle vittime sale dunque a quota 240. I nuovi casi, diagnosticati dai test eseguiti nel Laboratorio di Riferimento Regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti, sono stati accertati su un totale di 848 tamponi analizzati. È risultato positivo il 3,4% dei tamponi. Il dato di ieri era stato del 3,2. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 240 pazienti deceduti. 341, meno 4 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 44, meno 8 in terapia intensiva, mentre gli altri 1.425 più 22 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 22.500 test. Aumentano le guarigioni, che sono 224 più 11, 181. I pazienti che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 43, quelli che hanno risolto i sintomi dell'infezione, sono risultati negativi in due test consecutivi. Nel totale dei casi positivi, 229 si riferiscono all'ASL Avezzano sul Monal Aquila, 469 all'ASL all'Anciano Vastocchieti, 971 all'ASL di Pescara e 605 all'ASL di Teramo. Ma più in generale, dall'inizio dell'emergenza Covid in Abruzzo, i decessi di pazienti positivi al virus sono stati pari al 10,3% nel totale dei positivi. Un dato inferiore di 2,5% rispetto alla media nazionale, che pare al 12,9%. L'età media delle vittime di sesso femminile è di 80 anni, che scende a 75 per gli uomini. La media nazionale è indistinta per sesso e pare a 78 anni. Il più giovane dei deceduti aveva 38 anni, la più anziana 99. L'incidenza della mortalità in Abruzzo rileva il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato Regionale alla Salute, inferiore anche a quella di altre regioni con popolazione simile. A incidere sulla mortalità in Abruzzo concorrono anche una serie di altre concause. Quasi un quarto della popolazione residente è composta da over 65, con un indice di vecchiaia regionale pari a 191,8. Ogni 100 ragazzi under 14 ci sono quasi 192 anziani. Pazienti più anziani significa anche l'incidenza di più patologie sullo stesso paziente, soprattutto diabete e malattie cardiovascolari, che associate all'età aumentano il rischio di complicazioni legate al Covid.